Ciao a tutti io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Yakuza 5 Nello scorso episodio abbiamo finito tutte le missioni secondarie di Haruka E adesso devo arrivare a una cabina telefonica che si trova qua per cambiare il personaggio Ma c'è di nuovo lei, ciao C'è una foto a lei? Ok siamo a 3 o a 4 Ah è una rivelazione Siete qui? Hey! 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 Esatto! Ah! 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 Esatto! Ah! Ah! C'è qualcosa? E va bene, non no. o paura ok qui si mostra Ulala San a fare una mossa spettacolare dice che è di una città chiamata Sotenbori è molto impressionante come può fare così può tirare fuori qualcosa di così drammatico Rainbow Prism Star ma mentre faccio le battaglie ok va bene oddio è vero ma questo era difficile non lo so se ce la faccio riproviamo ma ecco Sì 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 No basta Sì 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 Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Come si chiamava il personaggio? Forse dalla... Dall'Aid Out? Sì, ok. Ok, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Ok, B2. Tu che livello sei? Ma dai, perché no? Facciamo l'ultima battaglia. No, non ho le cose, non mi interessa. E quindi sui localmente sono a delle lezze. Questa scema, non è Sutro che viene viene viene. Non. C'è un'ottima battaglia. Ma dai, per l'ultima battaglia. oddio questa è molto difficile è molto difficile sai che perdo questa battaglia la perdo ah no vabbè ho vinto per i punti per carità però è stata tragica ok appeal sali vai 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 di poco no guarda ci stavi per battere c'eri molto vicina anche tu ti immagini quanto dai fatemi cambiare il personaggio dice lo chef ed eccoci qua entriamo si ok ritorniamo ad Ashun anche lui è stato rapito c'è qualcuno che sta prendendo di mirare l'azienda allora forse l'agenzia si può fare ok ok andiamo allora vediamo se abbiamo delle missioni secondarie da fare con lui ok è sempre per le rivelazioni la tua fortuna oggi è terribile va bene capisco non ci sono missioni secondarie quindi Shun è un po' un contorno dalla storia di Haruka allora è un peccato è un peccato ok ok scusate permesso ok dei combattimenti vieni vieni ok potrei riuscire a eliminarlo infatti non c'era bisogno non c'era bisogno non male siamo ancora di livello basso con lui nickel blade perché no ok ma che succede che succede chi è non credo non ricordo di lui comunque ok 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 Va bene Ci insegna qualcosa quindi Quindi era pelato Forse ho presente chi è allora Grazie a tutti Grazie a tutti Dragon Ball Ok ci vediamo Quindi ci vediamo davvero Va bene Si può fare Finché ci insegna roba A noi va bene Volevo prendere la chiave Qua sotto H5 Allora Abbiamo ricevuto Una mail Ok ci dice dove si trova E poi E dove siamo noi no? Bene Torniamo al Dainacher Caraca ci sta aspettando Scusa Permesso Ciao Sì hai ragione scusami Meglio così Vabbè se non risponde Non siete un po' Precopati Ok Andiamo All'ufficio Cerchiamolo 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 Dai ma noi lo sappiamo Che serve la penna A penna Aroca Ecco Grazie Finalmente Qualcuno di intelligente In questo mondo Perfetto Fict Ok E nella lettera Cosa c'è scritta Subito a cercare I soldi Ah è la lettera Dell'ex Marito Ok Sì Sì È diversa Non credo Non credo È ori è Eh che cazzo Andiamo sul tetto Spero Scala di emergenza Ok Ok Sì Qualcuno L'ha ucciso Vai Chiama L'ha ucciso Lui Ha una pistola dietro Eh ma L'hai comunque fatto Ah vabbè Finché un coltello Già Oh Gita Eh bravo Beh non per niente Un ballerino Eh Voglio far Provare a fare Quella mossa Ok Siamo ancora molto scarsi Quanta vita Ok Ok Boom Minchè è un bello stile di combattimento Mi piacerebbe usarlo Ok Ok Esagerati Dai Chiamo la polizia Per favore No no Non distrarti È ancora vivo Menomale Ok c'è salato la vita Aruka mi hai fatto il sollettico eh già aspetta fammi fare i livelli uomo misterioso aspetta fammi fare i livelli azz 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 la belva azz 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 magari continua a chiamare l'ambulanza ciao ciao ok siamo già arrivati nel capitolo 4 oltre il sogno al di là del sogno possiamo tradurlo eh ma non è lui il problema comunque beh certo non ci sono testimoni ma 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 no ma 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 Non lo be' che trovate morto da qualche parte? Va bene. Ne inizierò a dire per tutto il casino che c'è in giro? Non gliene frega niente. Ci siamo nella merda. Eh, credo che faremo un bel po' di investigazione. Eh, credo che faremo un bel po' di investigazione. Credo che ci siamo in giro. E' un po' di più. 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 Ok. E' un po' di più. Certo. Rispondiamo. Ah, con Aruka. Siamo ora. L'unica rimasta. Ok, meno male dai. No. E' un po' di più. E' un po' di più. Ma a guardia cosa fujere? E' un po' di più. E' un po' di più. E' un po' di più. ma anche il suo progetto, ma anche se non è il primo che si tratta di un'esperto ... 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 E' una buona sera' notizia. E' una buona sera' notizia, ma è una buona sera' notizia. Ma, ma, ma anche se ti viene a fare? È la buona sera' notizia. Non, anche se ti viene a fare una buona sera. I'attorni per farmi una buona estizia. Ma bene? Si, è vero... Si, è vero? Si, è vero, vi potete fare. Grazie, grazie. Ora mi sono andata in Dynastia, quindi se vi faccio un'altra parte, se vi faccio con Haruka, ora mi ringrazio. Ok, ho capito, mi ringrazio. Sei un talento, Haruka. Non... Ok anche lui ha ricevuto una chiamata Perché è sempre questa musica quando chiamarle Ah su quello niente Ma dai sta facendo un'opera di bene C'è un' addirittura a domani ok lui si può rilassare nel mentre ok va bene quindi volendo posso cambiare con lui no ok vediamo un pochino se ci fa fare missioni secondarie o qualcosa dato che questo è l'ultimo capitolo di loro due volevo comunque sfruttare anche Shun oh vediamo se è solamente un contorno no ha le sue missioni secondarie e poi vabbè la missione principale è di Aruka va bene facciamo qualcosina qualcuno ha da testare ho sentito ok quindi vuoi picchiarci assolutamente addirittura ma sei solo e vabbè maledetto ma sei Cosa se ne fa lui? Ma la lancia? Aia! Ho intanto voglio spezzare la schiena! Fermati! Maledetto! No, non ce la faccio prenderla, ok? Dai eliminiamola, basta! Non ce la faccio prenderla! Ok! 1300 punti esperienza! Ok, ci ha regalato una sciarpa! Che cosa sta succedendo? Ok! Dobbiamo proteggerla quindi? Non ce la faccio prenderla! Hm... Eh? E' forte? Eh vabbè, forse non sai chi hai davanti eh! Vediamo! 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 Ok! Ok! Oh cretino! Era ancora in terra quello! Ok! 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 Certo! quello dietro lo stava pagando zero e jewel 1300 punti e abbiamo fatto un livello quindi aumentiamo la vita direi e poi aumentiamo il litigorge ma come ce l'hai perché scusami cosa ti ho fatto ok cattivi questi host cosa deve fare Un po' Un'esagerazione Però Eh no Maledetto Scappato Come si faceva A non Usare il lit Comunque ragazzi Noi ci salutiamo Ci vediamo al prossimo episodio Lasciatemi in pace Sempre qua Sul mio canale Ciao a tutti Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi E lasciatemi un piace E noi come sempre Ci vediamo al prossimo video Sempre qui Sul mio canale Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti